Caldaie accese nelle case, traffico intenso, queste le cause che potrebbero essere alla base dell'inquinamento della piana di Venafro, almeno per quanto riguarda i picchi invernali di particelle pericolose nell'aria, è quanto messo nero su bianco dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, consegnata ai sindaci di Montaquila, Pozzigli, Venafro e Sesto Campano, la relazione che prende in analisi gli anni dal 2020 al 2022. Il documento conferma il quadro di generale difficoltà della piana, criticità ambientali da approfondire. A conclusione della relazione, come riferito dai sindaci, l'invito a eseguire ulteriori e mirati controlli anche con l'aiuto delle istituzioni. Già nelle scorse settimane era arrivato il via libera per nuovi accertamenti di Arpa Molise, campionamenti nei terreni per verificare il livello di concentrazione di metalli, a mettere sotto la lente la questione anche le indagini condotte dalla procura di Sernia. Proprio il procuratore Carlo Fucci, nel corso di una conferenza stampa, aveva evidenziato come l'area contaminata da cadmio tra i comuni di Venafro, Pozzigli e Sesto Campano superasse i 121 mila metri quadrati. I sindaci della piana incontreranno nei prossimi giorni il presidente Toma per un nuovo tavolo di confronto sulle possibili soluzioni da adottare e intanto nuovi controlli partiranno a Sesto Campano. Il primo cittadino, Ustacchio Macari, ha confermato che presto Arpa installerà un mezzo mobile di rilevazione di polveri sottili nell'aria. L'analisi andrà avanti per un anno.